I virus della pandemia e del fascismo ci vorrebbero tutti divisi e senza la possibilità di ricordare. Ma, in barba a loro, questo 25 aprile sta da fare lo stesso. L'Ampi e l'Arci di Como vi invitano alla maratona 25 ore per il 25 aprile, testimonianze, racconti, documentari e tanto materiale. Per celebrare, come se fossimo al monumento alla resistenza europea, sotto l'ombra di un bel fior. Vi aspettiamo su ampicomo.it e arcicomo.it per scoprire i video che abbiamo selezionato per questa giornata. Arcicomo Web TV, liberi di ricordare!